Buongiorno a tutti ragazzi bentornati al mio canale sono il vostro video notato che vi parla siamo qui su Davy McRae Missione numero 14 punta la numero 14 l'ultimo bello e andiamo a vedere cosa accadrà in questa puntata Andiamo Fido il ballo è il tuo turno baby Forza piccolo rendiamo orgoglioso papà Madonna mia E' magrissimo ma quello splodo lì dentro Cosa sta succedendo? Oh qua non vedi quant'atletica Ah vediamo qua dove mi balla la balza Aspettavo proprio un'occasione per scatenarmi Ma che sta a fare? Oddio Oddio che schifo raga Mamma mia che schifo raga Ma che è? E' stata appesa? Figlio di Mundus Una faccia che sono il cuore di una mamma può amare Oddio No raga non posso restare molte cose Oph Pazzolito Devo ammazzare solo così È facile Aia Girati Ma come cazzo Ho ucciso quelle cose Vai così Ah così 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 Aia ma ha preso M'ha preso Girati girati Aia ma ha preso Girati Bravo così Oh mamma mia ragazzi la rischiata La rischiata brutta Ha chiuso, ha chiuso l'occhio Scappa via, scappa via Aia porca Pazzo Cazzo è successo Oh ma la rischiata brutta Che buona Oh Ragazzi qua non finirà E' una parte che l'ho levata di vita Ah ok Ok perfetto Perfetto Sbagliato io Dai così a cazzotti A cazzotti Dai No 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 Ancora 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 no Dai proprio schifo Dai proprio schifo Aia Gelati Gelati Bravissima Bravo Bravissima Bravissima Que buona bellissimo così la richiamo bravi quella mamma mia scappa via scappa via bellissimo tanto alla grandola si vai 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 non ci capisce niente bellissimo tanto mamma mia number one number one number one vai 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 si si lancia sto cavolo lanciami sto cavolo vai non mi rendi più brutta dritta vai guardalo aia sta soffrendo sta soffrendo va che sta soffrendo dai vai 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 vi lo diamo di volta dentro al corpo eccola la eccola la lini fuori la vera uso un'altra cosa a a a ma così per un posto a ancora più incazzato via 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 ancora più incazzato via 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 a non ci capisce niente troppo forte troppo forte l'ultima vita sua l'ultima vita sua l'ultima vita sua l'ultima vita su bravo possiamo fare anche un'altra maniera ragazzi via un po' eccola c'è un 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 Oh no, sai che fuori? apri la collocchia, apri la collocchia ah li apri la collocchia, perfetto meravigliissimo eccolo raga ma è schifo vieni fuori, ora ti faccio fuori vai 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 così fatta fuori ragazzi è stata fatta fuori finalmente è stata la massima concentrazione ragazzi veramente massima concentrazione alzati non ucciderò né te né il figlio di mundus lascerò vivere entrambi se fai esattamente quello che ti dico lo farò bella così raga io non valgo niente senza questo un tazzo coletta datti una calmata allora datti una calmata ti faccio fuori oh grazie per esserti messo in contatto scusa se ci ho messo tanto mundus riguardo alla tua offerta di scambio avrei una controproposta la vita della ragazza per la vita di tuo figlio ma è così guardalo guardalo come si incazza fatti incazzare fatti incazzare fatti incazzare fatti incazzare fatti incazzare ed è finita la missione ragazzi ci vedo l'entrata passiva piusare da UL e tutto quanto se vi è piaciuto il video condividete mettete un bellissimo like ciao ragazzi alla prossima ciao